Il caso di Nicoletta Dosio fa discutere. L'anziana docente e attivista Notav è stata arrestata lo scorso 30 dicembre e condotta in carcere dopo aver rifiutato i domiciliari a seguito della condanna ad un anno di reclusione accusata di violenza privata e di interruzione di pubblico servizio. Questo avveniva in mesi particolari, nei mesi del governo Monti, probabilmente è stata vista come un gesto che tra l'altro viene fatto durante gli sciopero in Francia di questi giorni in modo assolutamente tranquillo come dimostrazione di dissenso per interrompere la produttività come uno sciopero come un altro, veniva visto probabilmente come una cosa pericolosa che non deve essere rifatta. Nei prossimi giorni intanto sapremo come sta fisicamente perché sta affrontando anche in questi giorni da oggi alcuni giorni in ospedale per un'operazione programmata e quindi sta anche lottando contro il suo stato di salute e ci saranno degli aggiornamenti, capiremo come procederà. La vicenda della professoressa Dosio è stata al centro di un animato dibattito sugli spazi del dissenso nei sistemi democratici e sul delicato ruolo della giustizia penale dinanzi alla protesta collettiva, un tema che sollecita da più fronti i valori della Costituzione. Ogni volta dagli anni 90, 2000 in poi, in cui vi è un diritto costituzionale che viene calpestato e le persone protestano, il momento repressivo diventa atroce, diventa un diritto penale del nemico, a mio parere, si criminalizza il dissenziente e al di là dei singoli comportamenti penalmente rilevanti che devono essere perseguiti per legge, in realtà si massifica la contestazione perché interesse di chi svolge con un autoritarismo inaccettabile in una società democratica una funzione di emarginazione, di seppellimento di ogni voce dissenziente. La vicenda del Notav mi sembra assolutamente significativa, un atteggiamento politico di tipo autoritario, coloniale. Solidarietà personale e istituzionale per Nicoletta Dosio è stata espressa dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Sono praticamente tantissimi gli attivisti che oramai hanno scontato, stanno scontando misure cautelare e addirittura il carcere. L'arresto di Nicoletta è diventato un esempio emblematico di quanto questo atteggiamento sia diventato paradossale. Stiamo parlando di una signora di 73 anni, una professoressa di latino e greco del liceo classico, insomma una donna colta ma soprattutto una persona molto anziana e che ha bisogno chiaramente di stare a casa con una serie di attenzioni e che invece il 30 dicembre è stata portata via ed è stata portata al carcere delle Vallette. È un atteggiamento che effettivamente non riesce a trovare più nessun tipo di freno neanche davanti a persone così e davanti a reati che sono degli atti di disobbedienza. Con questa iniziativa al Comune di Napoli, in Sala Giunta, abbiamo voluto dimostrare la solidarietà istituzionale e politica a questa donna della Valsusa, militante, Nicoletta Dossio, arrestata a 73 anni, professoressa di letteratura greca, per aver manifestato dissenso nei confronti di un'opera pubblica che secondo me e secondo tanti è dannosa da un punto di vista ambientale, da un punto di vista economico e da un punto di vista finanziario. Una donna che difende in maniera non violenta l'ambiente, il territorio e i beni comuni, in un paese normale riceverebbe medaglia e invece in una patria galera.